La differenza tra un'opera normale e una grande opera è fatta su questo. Adesso il nostro ruolo è proprio quello di garantire che la qualità del fatto sia quella che noi ci immaginavamo da sempre e che voi tutti, insomma, che sono migliate e spettiate. Quando si comincia a vedere l'arco? L'arco è a fine novembre, si parlava, siccome avevamo detto. Fino a novembre è l'arco, insomma, ieri quelle poche foto orribili che ho mandato, quella che dicevo prima, quella delle fiamme che uscivano nelle nostre tracce, che stanno producendo, per cui c'è chi dice che già questa settimana potrà venire arrivato il proprio. Il cantiere è pronto, hanno già fatto passaggio per tutta la piazza all'area di cantiere, per cui si va avanti. Agosto si lavora? Agosto si lavora? Sì, ha detto di sì. Boh, ce l'ha detto lui, io non lo so. Sì, anche... no, no, vediamo. Anche perché il fiume va... Cioè, devo dire che è una bella squadra, comunque. Cioè, c'è una gran bella squadra, sia come... mi intendo, ma... sia come direzione lavori, assistenza, cioè direzione artistica, all'aprese... Sì, io mi sono morto.